In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus. Sempre laudetur. Maria Sede Sapientiae. Ora Pronobis. Continuiamo la lettura dell'Imitazione di Cristo. Libro II Capo X Della Gratitudine per la Grazia di Dio Perché cerchi il riposo mentre sei nato alla fatica? Preparati a soffrire anziché ad avere consolazioni e da portare la croce anziché a godere. Chi mai a questo mondo non riceverebbe volentieri la consolazione e la gioia spirituale se sempre potesse ottenerla? Poiché le consolazioni spirituali sorpassano tutte le delizie del mondo e le volutà della carne. Tutte le delizie mondane sono o vane o turpi. Le spirituali sono le sole gioconde ed oneste ed infuse da Dio nelle anime pure. Ma di tali divine consolazioni nessuno può godere sempre secondo il suo desiderio perché il tempo della tentazione ritorna ben presto. È poi di grande impedimento alla visitazione superna la falsa libertà dell'animo e la soverchia confidenza in sé stesso. Il Dio fa bene a dare la grazia della consolazione ma l'uomo fa male a non riferire tutto a Dio con gratitudine. Per questo non possono fluire in noi i doni della grazia perché siamo ingrati al loro autore e non riferiamo tutto alla fontale sua origine. Signore, sempre sarà data la grazia a chi rende grazie degnamente e sarà tolto al superbo ciò che suol darsi all'umile. Non voglio la consolazione che mi toglie la compunzione né desidero la contemplazione che mi leva in superbia. Poiché non ogni cosa alta è santa né ogni cosa dolce è buona né ogni desiderio è puro né tutto ciò che a noi è caro è grato a Dio. Volentieri accetto quella grazia che mi faccia sempre più umile e timorato e più pronto a lasciar me stesso. Chi è ammaestrato dal dono della grazia e dalla sferza della privazione non oserà attribuire a sé nulla di bene ma piuttosto confesserà d'essere povero e nudo. Dà a Dio ciò che è di Dio ed a te ascrivi ciò che è tuo cioè a Dio rendi grazie per la sua grazia. A te solo ascrivi la colpa e riconosci esser dovuta alla colpa pena adeguata. Poniti sempre al posto più basso e ti sarà dato il più alto poiché ciò che è più alto non può sostenersi senza ciò che è più basso. I santi più grandi davanti a Dio sono quelli che sono da meno agli occhi propri e quanto più gloriosi tanto sono in sé stessi più umili. Pieni di verità e di gloria celeste non sono cupidi della vana gloria. Fondati e stabiliti in Dio non possono in verun modo essere orgogliosi. E coloro che riferiscono a Dio tutto ciò che ricevettero di bene non cercano gloria gli uni dagli altri ma vogliono soltanto la gloria che è da Dio e bramano sopra ogni cosa che Dio sia lodato in loro ed in tutti i santi e da quest'unico scopo tendono continuamente sii dunque grato per le cose minime e sarai degno di ricevere cose maggiori ogni meno ma cosa sia per te grandissima e ciò che è più spreggevole abilo come dono speciale se si guarda la dignità del datore nessuna cosa data sembrerà piccola nessun dono sembrerà vile poiché non è poca cosa ciò che è donato dal sommo il Dio quando anche egli desse castighi e battiture anche questo ci deve essere grato perché fa sempre per la nostra salute qualunque cosa permette che ci succeda chi desidera conservare la grazia di Dio sia riconoscente per la grazia data paziente per la grazia tolta preghi affinché ritorni sia cauto ed umile per non perderla in nomine Patris et Filii e Spiritus Santi Amen Laudetur Iesus Christus Semper Laudetur